Se noi vogliamo qualcosa in più dobbiamo dare qualcosa in più perché evidentemente non ci basta questo, perciò dobbiamo dare di più nel calcio e poi nella vita. Se vuoi ottenere i risultati più belli, più prestigiosi devi dare di più e quel dare di più non dipende dall'avversario ma dipende da noi stessi, da quello che vogliamo.